Leggo Lacrime di Pierpaolo Pasolini tratto da La religione del mio tempo del 1961 Lacrime Ecco quei tempi ricreati dalla forza brutale delle immagini assolate, quella luce di tragedia vitale, le pareti del processo, il prato della fucilazione, il fantasma lontano in cerchio della periferia di Roma biancheggiante in una nuda luce, gli spari, la nostra morte, la nostra sopravvivenza, sopravvissuti vanno i ragazzi nel cerchio dei palazzi lontani, nel lacre colore del mattino, ed io, nella platea di oggi, ho come una serpe nei visceri che si torce e mille lacrime spuntano in ogni punto del mio corpo, dagli occhi ai polpastrelli delle dita, dalla radice dei capelli al petto, un pianto smisurato perché sgorga prima di essere capito, precedente quasi al dolore. Non so perché, trafitto da tante lacrime, soguardo quel gruppo di ragazzi allontanarsi nell'acre luce di una Roma ignota, la Roma appena affiorata dalla morte, superstite, con tutta la stupenda gioia di biancheggiare nella luce, piena del suo immediato destino di un dopoguerra epico, degli anni brevi e degni di un'intera esistenza. Li vedo allontanarsi, ed è ben chiaro che i adolescenti prendono la strada della speranza in mezzo alle macerie assorbite da un biancore che è vita quasi sessuale, sacra nelle sue miserie, e il loro allontanarsi nella luce mi fa ora raggricciare di pianta. Perché? Perché non c'era luce nel loro futuro, perché c'era questo stanco ricadere, questa oscurità. Sono adulti ora, hanno vissuto quel loro sgomentante dopoguerra di corruzione assorbita dalla luce, e sono intorno a me, poveri uomini a cui ogni martirio è stato inutile. Servi del tempo, in questi giorni in cui si desta il doloroso stupore di sapere che tutta quella luce per cui vivemmo fu soltanto un sogno ingiustificato, inoggettivo, fonte ora di solitarie, vergognose lacrime.